Novità importanti sul tema della celiachia e dell'alimentazione. Il ministro Grillo, infatti, ha emesso una nuova normativa che va a modificare quella del 2006 e che abbassa. Il limite posto ai rimborsi a seconda delle fasce d'età e del sesso. 110 euro, anziché 140, per gli uomini dai 18 ai 59 anni. 90 per le donne della stessa età, 100 per i maschi dai 10 ai 13 anni, 99 euro per le bambine, 124 euro per i maschi dai 14 ai 17 anni. Il video in apertura fornisce tutti i dettagli del caso e le regioni hanno tre mesi di tempo per adeguarsi. La normativa prevede anche una serie di consigli pratici, compreso quello di adottare un'alimentazione composta per il 55% da carboidrati e per il 35% da alimenti senza glutine. Scenario in evoluzione anche al pronto soccorso. Arriva il codice LILA, destinato ai pazienti afflitti da disturbi dell'alimentazione quali anoressia, bulimia e binge e hating. Lo scopo è quello di aiutare il malato a comprendere la natura del disturbo e a fornire un modo pratico per gestire i pasti, con o senza l'ulteriore ostacolo della celiachia.